Allora, rettrice, parliamo immediatamente di un progetto che l'Università La Sapienza, con la partnership della Regione Lazio e del Policlinico Umberto I, ha messo in campo, cioè uno screening gratuito degli studenti. Come sta andando? Allora, questa è un'iniziativa di Sapienza, di Sapienza che con una decisione che è stata assunta dal Consiglio d'Amministrazione ha stanziato delle risorse dedicate all'esecuzione dei tamponi molecolari in costanza della riapertura delle attività didattiche del secondo semestre. Abbiamo iniziato il primo di marzo, ci siamo poi ovviamente fermati quando Lazio è entrato in zona rossa e dal 12 aprile abbiamo ripreso. C'è stata un'eccellente adesione da parte degli studenti e voglio aggiungere che questa è stata proprio una strategia del nostro Ateneo per riaprire in totale sicurezza. Avete riscontrato casi di positività e se sì, come avete provveduto ad isolarli? Le percentuali di positività si sono attestate intorno all'1%, quindi sotto alla media regionale. Mi consenta però di aggiungere un'altra cosa, che questa iniziativa di particolare importanza, non solo per rientrare in sicurezza il tracciamento, ma anche perché è stata sostenuta anche dagli studenti delle professioni sanitarie negli ultimi anni e quindi un'iniziativa degli studenti per gli studenti. La Sapienza si è dotata anche di una propria task force per dare anche le linee guida a docenti e studenti. Come stanno svolgendosi le cose? La task force in Sapienza è stata istituita subito dopo l'inizio della pandemia, quindi nel 2020, ed è costituita da esperti scientifici, che evidentemente nel nostro Ateneo non mancano, da i responsabili dell'Ufficio Sicurezza dell'Ateneo. E queste linee guida che sono state messe in piedi sono costantemente aggiornate. È stato difficile gestire gli esami, le lezioni a distanza e soprattutto, come avete capito, durante propriamente gli esami, che gli studenti fossero da soli? Ma le linee guida anche sugli esami a distanza, sia per quelli solamente in forma orale che in quella in forma scritta, sono state aggiornate anche con l'adozione del doppio schermo, ovvero del doppio controllo sia dell'ambiente circostante che del video in diretta. Dal 7 di aprile abbiamo riaperto in forma blended tutti i corsi di studio e quindi tutte le nostre aule. Anche esami e sedute di laurea possano essere svolte in presenza o in forma mista, in ogni caso garantendo la forma a distanza. Sulla presenza io veramente auspicherei che il prossimo anno accademico si possa riprendere in presenza, ma questo lo potremo definire solamente dopo l'estate. Rispetto alle immatricolazioni, il trend è in negativo, è in calo? Secondo lei è determinato dall'aumento delle tasse universitarie o da una cattiva gestione e formazione degli studenti durante gli anni liceali? Allora, il dato sulle immatricolazioni è un dato positivo. Sapienza quest'anno ha registrato un aumento delle immatricolazioni intorno all'8% e su questo sicuramente ha inciso la politica che l'Ateneo negli ultimi anni ha fatto rispetto proprio alla notte a Xaree, quindi per venire incontro alle famiglie. Com'è essere il primo rettore donna dell'Ateneo più importante d'Europa? Guardi, sicuramente la notizia che dopo 718 anni Sapienza abbia una rettrice è stata particolarmente diffusa. Io voglio sottolineare un altro aspetto. La mia elezione è stata supportata dal 61% delle preferenze, quindi mi piace più sottolineare il tema dell'unità dell'Ateneo. La Sapienza si è confermata come l'Ateneo più importante dal punto di vista delle discipline che riguardano gli studi classici e la storia antica. Come si raggiungono questi risultati? La tradizione di Sapienza sugli studi classici è una tradizione veramente importante che negli anni però è stata fortemente implementata con un'offerta formativa che è stata contaminata anche da corsi di laurea in inglese. Un augurio e un auspicio che rivolge ai suoi colleghi ma anche agli studenti. Bisogna essere ottimisti, guardare a un futuro che, come dire, dopo questo stress e questo trauma della pandemia rimetta da un lato nell'ordine giusto le cose veramente importanti e le priorità perché credo che questa esperienza debba per tutti noi portare questa considerazione e considerare ancora una volta questo momento di crisi come un'opportunità per ripartire, per ripartire meglio e per affidare al rilancio non solo dell'università ma in generale del nostro paese, alla ricerca, alla formazione e alla salute il valore che hanno e che a mio giudizio sono veramente il volano per la progressione del paese. Grazie a tutti.